Dottor Michael Colli, si comincia la nuova stagione, come sempre qui in isocinetica, è diventato un rito ormai. Che cosa stanno facendo oggi, questa mattina, i ragazzi per prepararsi appunto alla nuova stagione? I ragazzi questa mattina svolgeranno una serie di test fisici, partendo dal test isocinetico per gli arti inferiori, per la spalla e dei test di analisi di movimento per capire se ci sono problematiche legate anche soprattutto a questo periodo di lockdown in cui si sono allenati, però sono stati seguiti solo a distanza. Ecco, a proposito di lockdown, tante restrizioni, tanti protocolli per la sicurezza di tutti giustamente, ma sia Blue Volley che isocinetica stanno continuando o non hanno mai smesso di lavorare al massimo possibile? Assolutamente sì, noi abbiamo continuato rispettando regole abbastanza strette a fare il nostro lavoro e anche con Blue Volley, anche con i giocatori abbiamo continuato a fare un programma domiciliare, i ragazzi si sono continuati a allenare. Infatti a proposito li ho trovati molto in forma dopo questi mesi di inattività, quasi inaspettatamente, perché uno avrebbe potuto pensare un po' di rilassamento, invece hanno lavorato molto bene anche a casa. Che Iso Kinetic sia la casa dello sport ormai è cosa ben nota, sempre un'eccellenza, si lavora sempre al massimo per gli sportivi ma non solo. No, curiamo le principali squadre della città ma anche problematiche di persone normali, persone che vogliono tornare a fare quello che facevano prima o anche di più, dando gli stimoli positivi per alzare sempre un po' di più l'asticella. Grazie. Grazie. Grazie.